dingo se tu ti rilassi non c'hai caldo eh dai fatti i bravi no? stai zitto! ridagli oh e taglialo! ma non può sta sempre a bagliare però eh! su! una giornata fantastica 22 gradi è quasi l'una vai vincenzo profuma tutto lento bentornato Lucky eh bentornato eh saluta l'amico saluta l'ignorante caffona buongiorno monkey ciao brutos sono le 12 e 47 bambini ho tappato i velocchi cinnamico ah ieri ho cambiato pure la batteria servizi sta da paura 14 e 4 ho messo sempre la sotto meno male che c'è entrata perché non ero convintissimo delle dimensioni invece facendo gli ho dovuto mettere in pezzo dei cartoni sotto per farlo arsa un pochetto e vabbè non ti muovi ah questa qua è acqua questa è acqua questa è acqua e questa è la luce intanto noi dobbiamo insegnare no sono andata avanti e vi è raccordi abbiamo Voi che sono un biello? Non c'è stato il futuro. Venga, non cominciai a rompere. E' un po' più grosso di quello che avevamo prima. Magari anche di poco, però si vede. Non l'avamo più da di noi. Quella è la 5,40 e questo è 6,10. Oh, comprala. Poi d'Arcinese fa un bel regalo al letto. Si chiama sempre letto. Ehi, lì, lì, lì. Ehi, ti sei strusciato sui cuscini nuovi d'Arcinese? Lì, l'ho comprata al cinese. 4,50 euro l'uno. Stanotte ha fatto il diluvio universale. Ora pare che il sole rista uscire un'altra volta. Stanotte ha fatto vento, vento e pioggia. Ora vado dal cinese che devo comprare un secchiello per la carta per il bagno che non ce l'ho. Sto che buste nere volanti e non va bene. Stilo, leva peli. Leva peli quello che fai così e te leva tutti i peli. Ah, un portacenere per il bagno e buste nere per l'indifferenziata. A presto. Grazie a tutti. Mi so girato, mi so girato, vabbè praticamente la porta qua non si vede in cavolo, però almeno le finestre stanno messe, stanno messe bene, guarda che bello qua, oh Alula, e ti devi sta zitta però. Ho rifatto pure tutte quante le sigillature con questo, oh Amato, con questo da Bostick, oddio, se poi riprende, non lo so, vabbè, ormai l'ho ripreso, vabbè preso su Amazon, l'ho pagato quasi 40 euro, è un po' tantino però fa il suo dovere, l'ho passata all'esterno tutto quanto intorno all'oblò, sia qua che là, che là, che alla finestra questa qua in manzarda, che forse ce ne stava manco bisogno, però vabbè per sicurezza l'ho passata, io ho data, ah e poi ho passato pure qua, e basta voi due, state sempre a discutere, io l'ho passato tutto qua intorno al piatto doccia, perché si era un po' rialzata sta cosa che ci avevano messo, e avevo paura che l'acqua andasse, andasse, andasse dentro, e quindi con quello sto tranquillo, ah, un bocchetto di fiori amico, 26 gradi, stamattina ho acceso un po' la stufetta, avendo piovuto, si dice, essendo piovuto, avendo piovuto, ha piovuto comunque stanotte, e stamattina mi sono svegliato intorno alle 5 e mezza, 6, e c'è stava un po' d'umidità all'interno, quindi ho acceso un'oretta, un'oretta e mezza la stufa a pal, oh comunque, grazie di consigli che mi avete dato sulla stufa, perché ho chiamato, ho chiamato un tecnico, che si occupa proprio di questi lavoretti, eppure lui mi ha spiegato che, e stufe, non tutte ce l'hanno, però la maggior parte c'hanno tipo un termostato all'interno, proprio della stufa, che quando raggiunge la temperatura, se sta, cioè non è che si stacca, si abbassa, si abbassa la fiammella, e rimane solamente quella piccolina per mantenere la temperatura. Poi fa pure il rifornimento dell'acqua, l'unica fontanella che c'è stata disponibile, è là, che è sempre stata aperta, non si sa per quale motivo ci hanno messo il cielo, gli hanno levato il rubinetto, forse in passato c'è stato qualche camperista rozzo, che andava là e si prendeva l'acqua gratis, vabbè oma, acqua e pane, acqua e pane, sono beni primari, quindi, cioè, manco si dovrebbero pagare, non mi pare che sto parlando, è nudi ragazzi, tanto non si mette, è rotta, levamola qua la parte, mass condiciones, digamos, come trovate pulito, lasciate pulito, grazie il mare basta bagliare basta bagliare esatto esatto indovina che mi bagno la pasta che cozza è arrivata a 6 euro al chilo non è tantissimo ma dai ti metto sul letto ha fatto le biscette, bravo amore bravo oh fa il bravo eh aspetta Lula a te dopo, prima vuoi installare poi ci stai te, tagli eh una volta vi tocca portar fuori eh siete tre, siete uno eh non è che potremo uscire i copi che vuoi la gozza poi il coccodrillo come fa pa 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 non c'hai nessuno che lo sa pa 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 vivi che mangi il trappò non metta mai il cappacco il coccodrillo come fa pa 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 non mi spiegate perché dovete far sempre i coglioni quando faccio il video cioè non siamo bravi non siamo mai fa un video serio qui e dai eh non c'hai nessuno che lo sa pa 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 nooo ho questi ho questi ho questi lo vedi? bingo mettete a dormire vai mettete giù vai bingo nooo no ma io ti ho pure le crozze dai ma te devi mangiare eh ahahah vorrei bene ahahah 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 nel frattempo una è collassa dal sole ahahah ti ho detto mettila d'acqua vai ah giri meglio no? qua yesterday qua la pezzetta sta la eh non è male eh il sapore della ma te mica ne vado c'è ah rivers e una Grazie a tutti. Grazie a tutti.